e quindi adesso dobbiamo aprire la pagina dello sport. Infatti nel giorno che segna la conclusione della quinta settimana europea dello sport, la Camera di Commercio della Romagna pubblica un'indagine sulle imprese del settore. Quello dello sport si conferma un movimento in grande crescita. Vediamo il servizio. Sono 206 le imprese sportive attive in provincia di Rimini. Di queste 67 sono enti e organizzazioni anche impegnate in promozione di eventi. 56 sono club, 42 attività di gestione di impianti sportivi e 41 palestre. Rispetto a un anno fa si registra un incremento del 3,5% in linea con quello regionale ma leggermente inferiore al dato italiano. Buona anche la crescita di medio periodo. 5 anni fa si contavano 17 attività in meno. L'aumento negli ultimi 12 mesi riguarda in particolare le realtà impegnate nella gestione di impianti e le organizzazioni sportive. Calano invece i club. Complessivamente le imprese del settore sono lo 0,6% del totale di quelle attive, un dato che posiziona Rimini al terzo posto tra le province Emiliano-Romagnole. Prevalentemente le aziende sportive sono società di capitale o associazioni, con le prime che segnano anche una buona crescita rispetto al 2018. Poche le imprese femminili, appena 24, e giovanili, 15. Quelle gestite da stranieri sono invece otto. Quasi la metà delle 206 imprese del settore hanno sede nel comune di Rimini, mentre poco più di una su dieci si trova a Riccione. Il presidente della Camera di Commercio, Alberto Zambianchi, evidenzia le ricadute positive dello sport nel settore turistico, ma anche nel commercio con l'indotto creato da chi pratica attività, senza contare l'impatto sulla salute. Lo sport è uno stile di vita sano, dice, ben si inquadrano nei grandi temi del buon vivere e del wellness che il territorio sta portando avanti da anni. E adesso calcio per il Rimini. Arriva purtroppo una nuova sconfitta, questa volta a Modena. I Biancorossi rimontano da 2-0 a 2-2, ma poi subiscono il nuovo sorpasso dei padroni di casa. Vediamo com'è andata. Bianconossi e gialloblu dopo se turni di campionato sono appaiate in classifica quota 6. Cioffi a tutte disposizioni. Tra i pali gioca Sala. Al nono Arlotti si allunga il pallone, favorendo il recupero di Sodigna. La palla arriva a Ferrario, che conclude debolmente nessun problema per Sala. Al sedicesimo il Modena passa. Cross di Sodigna. Tulissi raccoglie il rinvio di testa di Nava e imbecca a Ferrario l'altezza del dischetto. Il numero 9 gialloblu supera Sala con una conclusione sotto la traversa. 1-0. E al ventiquattresimo i Canarini raddoppiano. Dopo una palla persa sulle mediane da Candido, Pestella attende l'inserimento di Sodigna. E lo serve. Il numero 10 scaraventa il pallone sotto l'incrocio di pali più vicino. 2-0. Al trentaquattresimo combinazione Zamparo, Candido e Silvestro. L'esterno non riesce ad imprimere forza al suo colpo di testa. Al trentottesimo il Rimini accorce le distanze. Silvestro per Candido. Cross da sinistra per la girata vincente dal dischetto di Gerardi. Modena 2, Rimini 1. La ripresa inizia con tre volti nuove in casa Biancorossa. Dentro Montanari, Finizio e Cigliano per Candido, Scappi e Leonetti. E al secondo il Rimini pareggia. Palma calcia con il contagiro una punizione per l'incornata di Gerardi che spunta tra quattro maglie gialle e infile il pallone sotto la traversa. Doppietta personale per il numero 20 Biancorosso. 2-2. All'ottavo cross dall'auto di sinistra di Berzotti deviato da Nava. Laurenti si coordina di prima, pallone a lato. Al tredicesimo il triplo cambio ordinato dal tecnico di casa Zironelli si rivelerà decisivo perché entra in campo De Grazia che deciderà la gara. Al diciottesimo il suo sinistro da fuori area deviato da Nava prende una traiettoria Beffarda che supera Sala per il 3-2. Al minuto 23 Davì per Spagnoli che calcia lato. Al trentunesimo Montanari per Arlotti, cross al centro, Zamparo sfiora di testa, sfera a fondo campo. Al trentottesimo De Grazia riceve da Spagnoli. Si sistema il pallone sul sinistro e lo spedisce nell'angolino basso. È il 4-2 che chiude di fatto la partita. Al quarantaduesimo Montanari rimedia il secondo giallo per un'entrata da Tergo e Dani di De Grazia. Finisce 4-2 per il Modena alla seconda vittoria stagionale. Per il Rimini invece il terzo stop in trasferta di fila. Un solo punto conquistato da Biancorossi nelle ultime quattro partite. E ora come di consueto sentiamo il commento del tecnico del Rimini, Renato Cioffi. Oggi noi abbiamo fatto secondo me una partita ottima, però il risultato ci penalizza secondo me più di quello che abbiamo fatto. Abbiamo subito due gol praticamente con palla nostra e poteva ammazzare qualsiasi squadra. Invece la mia squadra ha reagito, ha messo sempre palla a terra, giocando a calcio, con una squadra ben organizzata, su un terreno di giochi importante, con questo pubblico che spingeva. Non era semplice, quindi io devo ripartire da quello. La mia squadra ha dimostrato di avere degli attributi, di giocare con personalità, ha recuperato la partita e soprattutto dopo il 2-2 non si è tirato indietro, ha cercato di fare il 3-2. Mi ricordo la giocata di Arlotti dove invece di calciare poteva servire Zamparo da sol in aria e da un possibile 3-2 poi abbiamo subito questo gol clamoroso e come dicevamo pure ieri in conferenza stampa gli episodi non ci vanno bene, mai a favore come pure domenica mercoledì abbiamo subito un gol su due rimpalli, quindi è un momento che va così, però secondo me la squadra si è espressa molto bene, ha giocato con carattere, con voglia, ha lottato, quindi quando una squadra al di là della classifica è una squadra viva e non morta c'è solo da migliorare e ottenere il risultato. Siamo arrivati alla fine dell'edizione di questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che sulla nostra pagina newsrimini.it potete trovare tutti gli aggiornamenti e le notizie della provincia di Rimini, adesso vi lascio come di consueto a calcio.basket, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.